Oh, 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 and it's forever, yeah, yeah We've got to hold, all that we do, all that we do You've got to take all the living and so we get what it's true Questa sera sono al Sopravento con Fabrizio Corona, ciao Fabrizio Come stai? Bene, tu forse non ti ricordi, ma noi ci siamo già visti quest'estate E tu mi dicesti che avevi in programma di fare un partito politico Quindi vorrei sapere come procede questo tuo progetto I partiti politici vanno fatti a tempo, col tempo debito E soprattutto adesso non siamo in area di elezioni politiche Ci stiamo lavorando, sotto sotto, ho già fatto parecchi appuntamenti E penso che l'anno prossimo posso essere pronto per fare quello che avevo in mente Quando ti ho rilasciato l'intervista che sei stata Poi volevo sapere, sai che non da molto è uscita la legge che vieta ai locali di distribuire alcolici dopo le 2 Quindi come, cioè pensi che sia una legge positiva, negativa, cosa ne pensi? Penso che sia una merita stronzata Che non è per questo che ci sono le morti in autostrada Anche perché se uno vuole beve lo stesso Quindi non è questo il problema Certo, sicuramente Poi visto che sono curiosa Volevo sapere come mai l'altra volta non sei venuto Visto che ti abbiamo aspettato Non sono venuto perché sono stato malissimo Non stavo male da 4 anni E ho avuto un problema Purtroppo anch'io sono umano Certo, ti giustifichiamo Ti ringrazio, ciao Ciao